E penso sia giunto il momento ragazzuoli di parlare di questo tema, di questo tema che è stato particolarmente scottante in questo weekend ed è anche una fortuna che siano questi temi scottanti ma è appunto collegato al fatto che la Juventus non scende in campo per forza di cose non ci possiamo incassare per quello che vediamo e quindi tocca spostare l'attenzione sul fuori dal campo, su certe dichiarazioni, come quella di Calvo che ha mandato tutti quanti al manicomio e prima entriamo nel merito di quello che è un tema un pochino più calmo, più tranquillo, più condivisibile anche perché no ma che allo stesso tempo non dico faccia preoccupare perché in questo momento non fa preoccupare ma sicuramente tocca darsi una sveglia vedendo che il tempo rimasto a disposizione non è che sia poi così tanto esagerato ed è quello che riguarda lo sponsor Di maglia, dato che GIP alla fine di questa stagione terminerà la partnership con la Juventus, l'azienda di famiglia non darà più soldi ad un'altra azienda di famiglia per lo sponsor di maglia e la Juventus sappiamo che si sta abbastanza guardando intorno come è normale che sia valutando anche tutte le varie offerte, le varie proposte, si sta parlando soprattutto di Arabia, qualcuno aveva ipotizzato Compagnia aerea, vedremo come si sviluppa il tutto e vedremo poi di fronte a quali cifre perché è giusto ricordare che negli ultimi anni GIP dava alla Juventus 45 milioni annui per essere lo sponsor di maglia Vedendo gli ultimi anni è difficile ipotizzare che con un'azienda esterna della famiglia la Juventus riuscirà anche solo ad avvicinarsi probabilmente a quei 45 milioni lì ma speriamo possa essere una cifra più vicina possibile Ecco anche se sinceramente qualche dubbio ce l'ho soprattutto se penso che magari la squadra che quest'anno vincerà lo scudetto e l'anno scorso ha giocato una finale di Champions ha preso questa stagione mi pare 20 milioni dallo sponsor di maglia Siamo più o meno attorno a questa cifra qui quindi insomma ormai purtroppo il calcio italiano anche dal punto di vista degli sponsor è decisamente più indietro rispetto ad altre realtà e sappiamo benissimo tutte quanti quale Ma attorno a questo tema Calvo ha detto che ci stiamo lavorando è una sfida anche per noi perché era da tempo che non andavamo sul mercato per trovare un nuovo sponsor di maglia E gli ha gli torto tipo dal 2012 che la Juventus a GIP da dopo il primo anno di Conte viene da sé che sono 12 anni e sicuramente c'è poco da dire Inoltre arriviamo da anni complicati per quanto concerne l'immagine del brand questo è un dato di fatto Tra campo e fuori dal campo indubbiamente sì e immagino non siano cose che attraggano sponsor su sponsor disposti a fare a botte per darti di più Ecco questa è una naturale conseguenza Poi c'è una considerazione più generale Per il prestigio del nostro blasone è difficile trovare il partner adatto ma la grandezza del nostro marchio si definisce anche da quanti no riusciamo a dire Visto che non siamo per tutti in questo momento è molto difficile dire di no ma siamo ancora nella fase in cui lo facciamo per favorire la ricerca del partner giusto E che va bene posso capire Ma probabilmente dipende anche da quanto ti danno perché un possibile partner Considerato non ideale per essere lo sponsor di maglia della Juventus Se ti arriva lì che ti dice ti do 60 milioni per quanto mi riguarda può essere tranquillissimamente no pure OnlyFans per dire no Magari pure il buono sconto per quelli iscritti allo Juventus Stadium no Conta fino alla certa evidentemente i no mi viene da pensare quantomeno siano legati Ha un aspetto economico più che di marchio di per sé Poi per l'amor di Dio è giustissimo che ci sia anche un'etica legata allo sponsor e va bene Però se pensiamo che comunque prima di Jeep c'era BetClick C'era una società di scommesse E' vero che poi è cambiato anche tutto il management della Juventus E ci sono sicuramente anche no dei dirigenti differenti La visione attorno a queste cose è cambiata tutto quello che vogliamo Siamo tutti quanti d'accordo però questa cosa a me Mi metto un pochino di più sul chi va là Riguardo non tanto chi sarà lo sponsor ma su quanto ti darà lo sponsor Anche perché va bene tutto quanto ma torni al discorso di prima Se ti arriva uno sponsor che ti dà 60 milioni Penso che dici vabbè dai tutto sommato anche se non è etico Me lo faccio anche abbastanza andare bene Mentre invece a molti non è andata bene quest'altra dichiarazione Dove prima di entrare nel merito l'unica cosa che mi sento di dire E che magari io posso capire I tifosi giuventini di Torino o piemontesi E quant'altro che si possano sentire in un qualche modo anche tirati in causa Da queste dichiarazioni di Calvo Infatti così per dire Già magari Calvo sa di non essere stimato dalla totalità del tifo juventino Anche perché è uno di quelli che da qualche stagione sta portando avanti una battaglia Molto importante e particolarmente divisiva all'interno del tifo Ovvero quella di mandare via Massimiliano Allegri Dove quindi chi la pensa come lui Minchia lo osanna Chi invece la pensa in modo diametralmente opposto Cerca sempre il pretesto minimo Che è stato in questo caso servito su un piatto d'argento Anche grazie a come è stata riportata la frase Che minchia non vedeva proprio l'ora Di sparare proprio a zero Nei confronti di Calvo Per cosa? Per questa dichiarazione A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino Il nostro team commerciale è stabilmente nel capoluogo Lombardo Che alla fine è il centro economico italiano E qui purtroppo c'è poco da dire Noi per quanto siamo vicini scontiamo questo problema Ogni tanto sogno di essere a Milano come società Ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio Detto questo siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo Una città a cui siamo storicamente molto legati Veda un po' lei E anche i nostri tifosi italiani e internazionali Che la considerano casa Anche perché molti probabilmente quando sentono la parola Torino La tendono abbastanza ad accostare Alla Juventus Football Club Posto che dal mio punto di vista è anche proprio una città meravigliosa Che deve essere visitata al di là della zona della continassa Che quello più si fa sicuramente meglio è anche proprio per le casse del club E io posso capire Cioè immagino, obiettivamente immagino Che Calvo non abbia detto queste parole Diciamo no con cattiveria Anche perché poi mi pare di aver letto Che quando dice ah ci sono già due squadre a Milano Nell'intervista C'è comparsa anche la parentesi Ride a mo' di battuta E va bene Però appunto Calvo l'unica cosa che mi sento di dirti qua è Se già sai Che ha una discreta Non importante Una discreta fetta di tifoseria Già sta sui maroni Pensa come buttarla giù Perché obiettivamente Se uno non vede la dichiarazione no Come presupposto per dar contro a Calvo Non è che dicano qualcosa di estremamente sbagliato Sicuramente Milano è una città che dà molte più opportunità Dal punto di vista economico Sì Ma questo secondo me è più Diciamo per la gente normale Alla fine se sei una società riconosciuta e famosa in tutto il mondo Come la Juventus Le possibilità commerciali Sono una conseguenza di quello che è il tuo blasone Di quella che è la tua storia E penso che non è che di estremamente Estremi problemi Ad essere ad un'ora di distanza da Milano Però sicuramente È un centro È un polo A tutti gli effetti Anche per le società calcistiche Che come ha detto lo stesso Calvo Alla fine il centro Il team commerciale della Juventus È a Milano Mi pare che Milano spesso e volentieri Sia una sede abbastanza importante per la Juventus Anche in termini di mercato Bene o male sempre Per lo stesso ragionamento Quindi per carità È logico Che Milano possa dare delle possibilità in più Se non tanto magari a livello di sponsor Probabilmente a livello di raggiungibilità Sì E questo poi può essere visto anche In termini di stadio Perché tanto è anche di questo che si parla Torino Per quanto sia Estremamente bella Da un punto di vista affettivo Magari legato alla Juventus Non è così tanto facilmente raggiungibile Come può essere Milano Spesso e volentieri Andare a Torino Sta a significare anche Perdere due giorni di lavoro Dormire fuori Quindi sono discorsi Che possono tranquillamente Rientrare All'interno di questo ragionamento di Calvo Tanto che Bisogna anche ricordare comunque Che quando è stato presentato Il nuovo logo della Juventus Un qualcosa Tutti gli effetti di storico Dove è stato fatto A Torino No A Milano Probabilmente anche da questo punto di vista La famiglia Agnelli Non è estremamente distante Dal ragionamento di Calvo Da un punto di vista commerciale Non di legame Di affetto Nei confronti della città Che quello credo sia semplicemente In dubbio Anche Giraudo Spesso e volentieri Quando c'era possibilità Di organizzare partite Fuori da Torino Coglieva l'occasione Per poterlo fare Con tanto di Giraudo Che quando parlava Dell'idea del progetto Di stadio di proprietà Che era a fine degli anni 90 Parlava Anche di difficoltà A volte di raggiungere Torino Rispetto ad altre realtà Come appunto Poteva essere anche la stessa Milano E tante città estere Dove magari le partite Venivano viste Proprio dai tifosi Cioè dai turisti Non solo ed esclusivamente Dai tifosi Quindi sinceramente Io non me la sono presa Per le parole di Calvo Anche perché io Non essendo di Torino Non è che posso avere Quel legame Con la città estrema Io ho legame con Torino Sì Ma indubbiamente Non come uno che ci vive Come uno che è del Piemonte Questo è assolutamente logico Però l'unico consiglio Che mi sento di dire a Calvo È Vedendo Quello che Qualche tifoso Pensa Di lui Più diplomazia Più diplomazia Magari Magari dillo prima Torino è perfetta Però tutto sommato No? Così almeno dai sempre Meno modo di Di poter parlare liberamente Di far parlare liberamente Tutti gli altri Perché poi Se la dichiarazione Viene riportata Nel modo Per far creare polemica Via Scatenati mondo Io le capisco Le parole Di Calvo Anche perché parla In merito A quello che è Il suo lavoro All'interno Della Juventus E dove magari Una città Come Milano Ti può dare più opportunità Rispetto Ad una città Come Torino Posto che Se sei La Juventus Probabilmente Delle importanti Possibilità Le hai comunque Perché sei la Juventus Molto semplicemente Ragazzuoli Voi fatemi sapere Qui sotto la vostra Con un commento Io vi mando Un grosso abbraccio E tanto per cambiare Fino alla fine Forza Juve